Buongiorno a tutti, sono contenta di essere qui a questa riunione inaugurale dell'USIC. Vi porto anche i saluti della Salantitrice e Roberta Pinotti, che è stata ministro vostro in un certo senso, a cui avevamo anche chiesto una presenza oggi, purtroppo ha degli impegni istituzionali e non è riuscita a esserci. Anche io ho avuto un po' di difficoltà questa mattina perché avevamo dei voti segreti alla Camera e mi avrebbero tagliato la testa, sinceramente. Sono contenta di essere qui per due ragioni, perché io mi occupo di politica estera e quindi seguo in particolare tutte le missioni all'estero che il nostro Paese fa, nelle quali in particolare l'arma si distingue per una presenza seria, molto rispettata da parte dei tanti partner internazionali con cui si lavora. Io in varie parti del mondo sono stata e ho sempre sentito parlare molto bene del lavoro che fanno i nostri carabinieri, anche con un po' di invidia, ci sono tanti luoghi dove piacerebbe copiare il sistema dei carabinieri, l'ho sentito dire dall'ambasciata americana, l'ho sentito dire in varie missioni, in particolare se non sbaglio in Libano e se non sbaglio in Iraq, per cui davvero sono contenta di essere qui con persone che appartengono all'arma, proprio per questa ragione, perché conosco il valore del lavoro che fate all'estero, che è un valore di un lavoro di cui in Italia si sa poco, si vede poco, non c'è bisogno insomma di dire a voi quanto c'è simpatia nei confronti dei carabinieri per il lavoro che svolgono in Italia, ma voi svolgete un lavoro importante anche all'estero, che è meno conosciuto, ma insomma mi fa piacere portarvi anche appunto un contatto con chi lo ha apprezzato e con il rispetto e la stima di cui l'arma gode in questo senso. La seconda cosa sulla quale insomma sono contenta di poter darvi un saluto oggi riguarda invece la legge sulle rappresentanze sindacali, che è incardinata alla Camera, io tornerò alla Camera tra pochi minuti, ne parlerò con il nostro capogruppo in Commissione Difesa, Alberto Pagani, so che insomma noi stiamo lavorando su quel testo, è uno dei punti che fanno parte dell'accordo di governo che è stato negoziato, quindi cambiano diciamo le maggioranze, ma non cambia l'intenzione del Parlamento di arrivare al più presto a un'approvazione di un testo che permetta di avere delle rappresentanze sindacali anche nelle Forze Armate ed è per questo che insomma la nascita di un sindacato come il vostro che si impegna da oggi a rappresentare le istanze dei tanti lavoratori dell'arma dei carabinieri è particolarmente utile anche in previsione di una discussione di quel testo di legge, su quello noi vorremmo confrontarci anche con voi sicuramente per arrivare insomma a un testo che sia utile per tutti, per il lavoro che svolgete, che riconosca il lavoro che svolgete, che sia utile anche per il governo, qualsiasi colore di governo, per avere una voce della rappresentanza sindacale delle Forze Armate in tutti i passaggi governativi. Quindi sono contenta di essere qui perché insomma penso che il vostro lavoro che inizia oggi possa aiutarci anche in questo passaggio parlamentare, nonché ovviamente nel riconoscere il lavoro che voi fate quotidianamente. Quindi buon lavoro, resterò qui un pochino se riesco perché ricominciamo a votare, mi spiace oggi immaginavo sarebbe stata una giornata più semplice, invece purtroppo non lo è, però cerco di stare un po', almeno ad ascoltare un inizio. Buon lavoro.